Palazzo Margherita deve tornare fruibile a marzo 2022. Non sente ragioni il vice sindaco Raffaele Daniele che sostanzialmente ha dato un ultimato maleditta impegnate nei lavori di ricostruzione di uno dei simboli più importanti della città. Per il comune non sono tollerabili più ritardi. Sulla faccenda era intervenuto anche il consigliere comunale della Lega, Luciano Bontempo, che aveva denunciato gravi ritardi anche dovuti al reperimento di materiali. Il cantiere è partito nel 2017, erano previsti due anni per la riconsegna, ma i tempi si sono dilatati. L'importo dei lavori è di 11,7 milioni di euro. In parte l'intervento è stato finanziato dal credito cooperativo che ha raccolto ben 6,5 milioni. All'incontro in comune con Daniele hanno partecipato Marta Fiorelli, il direttore dei lavori, il ruppo Mario Di Gregorio, i rappresentanti delle ditte e il capo dipartimento Tiziano Amorosi. Un cantiere che vive, ha vissuto una storia molto travagliata dagli iniziali ricorsi al TAR a dei ritrovamenti reperti. Sono state una serie di problematiche che si sono succedute nel tempo, però abbiamo deciso di tirare una linea e di impegnarci tutti quanti per la soluzione più rapida possibile. Noi come amministrazione abbiamo fatto uno sforzo anche economico, oltre che giuridico, amministrativo notevole, approvando una perizia di variante abbastanza cospicua, attraverso la quale abbiamo messo l'impresa nella migliore condizione di poter terminare i lavori nei tempi stabiliti. Adesso non bisogna abbassare la guardia per poter riconsegnare alla nostra città un altro splendido palazzo che aspetta da tanto tempo. L'obiettivo dunque è la riconsegna per il 2022, quando ricorreranno anche 500 anni dalla nascita di Margherita d'Austria, la quale è intitolato il Palazzo Sede della Municipalità. I lavori per la Torre Civica sono in dirittura d'arrivo, la facciata del palazzo ormai è stata scoperta completamente, ma ci sono ancora molti lavori da fare, per questo serve una sinergia e un impegno massimo da parte di tutti.